In aumento esponenziale i casi di covid e di influenza, il video appello del Presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella, no abbracci e baci d'auguri e vaccinatevi. Oggi vorrei fare un appello ai cittadini e principalmente per due motivi. Innanzitutto per augurare un sereno Natale e un sereno Anno Nuovo a nome mio e di tutto il Consiglio dell'Ordine. L'altro appello è che in occasione di queste festività c'è un assembramento di persone per incontri, assemblee, cene e cose varie. Quindi l'appello mio vuole essere una raccomandazione alla prudenza, perché vero è che ormai il covid è una patologia similinfluenzale o addirittura forse meno pesante dell'influenza, però è sempre una patologia da attenzionare e da prevenire. Prevenire con il buon senso, con la prudenza. Quindi in primis raccomando la vaccinazione a tutti i soggetti over 65 o a tutti i soggetti che hanno delle patologie particolari, quindi ai soggetti cosiddetti fragili. E dopodiché evitare nelle riunioni di scampiarsi gli auguri con abbracci e baci. L'augurio lo possiamo fare anche senza queste esternazioni, perché da questi abbracci chiaramente c'è più possibilità che si possa contrarre sia l'influenza che il covid. Per ora siamo nel periodo in cui c'è una esacerbazione di casi, sia per quanto riguarda il covid che per l'influenza. Addirittura io ho notato quest'anno che l'influenza, che da noi di solito la recrudescenza avviene nei mesi di febbraio o marzo, quest'anno credo che sia arrivata in anticipo. Quindi concludo con un rinnovante ancora gli auguri per queste festività e che quindi teniamoci alla salute. E l'ordine ha l'interesse che la salute dei cittadini sia al di sopra di tutti, per tutti i cittadini, indipendentemente da razza, colore, lingua e religione.